La Galleria d'Arte e le Muse, sabato 6 febbraio 2010, ospiterà la personale del maestro Mario Soave, Forza e Soavità della Pittura. Saranno in mostra 25 opere e oli su tela che raffigurano l'Italia sia pur nella sua diversità. Soave si presenta con tutta la sua forza pittorica nei lavori esposti. I suoi quadri inducono ad un'intensa ricerca interiore e da un piacevole incontro con la natura. La mostra si concluderà giorno 28 febbraio 2010.